Ai primissimi gradini. Problemi dell'avvenire attraverso Pietro Ubaldi. La vita non si propone dunque affatto come ultimo fine il trionfo dei più bassi campioni della razza. Questo lo può credere solo il materialismo e la sua filosofia. Il trionfo del più forte in tal senso può essere sulla strada ascensionale ai primissimi gradini, ma la via dei trionfi è lunga e porta lontano. La lotta assume in alto ben altre forme e altri scopi, cioè la formazione di un essere non più forte perché più violento dominatore, ma più potente perché più intelligente, saggio, quindi giusto e buono. Egli allora, come vedemmo, penetrerà nel funzionamento della legge come conoscenza e come attività, mettendo in moto nuove forze e potendo attingere a ricchezze immense, prima ignote. Egli è potente, ben altro che un debole e un fallito, come lo giudica l'uomo inferiore, che prende sempre la bontà per debolezza. Allora, la sua lotta ed esperimentazione assumono un carattere del tutto diverso. La forma di lotta dei piani inferiori, quella dell'assillo, della fame, dell'offesa e difesa, gli è risparmiata perché superata. Allora la vita si armonizza e la legge pensa essa a difendere l'uomo che ad essa aderisce, risparmiandogli questo duro lavoro per lui ormai inutile e cheppure è fondamentale e necessaria occupazione per gli inferiori. È logico che il lavoro utile imposto a tipi biologici così diversi debba essere diverso. È logico che appena si supera il livello di vita visto dal materialismo, il campione visto da Nice nel suo superuomo diventi un delinquente, un selvaggio re di selvaggi, un essere antisociale, distruttore di unità, disgregante e antivitale.